Come possiamo creare un portfolio online utilizzando l'intelligenza artificiale? Lo vediamo oggi in questo tutorial. Che cos'è un portfolio? Sono quei siti molto semplici in termini di struttura che solitamente vengono utilizzati magari per presentare il proprio lavoro. Immaginate, che ne so, un grafico, un designer, un fotografo, un professionista di qualche tipo, un consulente, un coach che magari non ha bisogno di un sito complesso, ma vuole mostrare, che ne so, le proprie fotografie, le proprie grafiche che ha creato, il materiale sul quale lavora, i propri progetti, i propri clienti e così via. Lo vediamo in questo tutorial come possiamo crearlo. E lo faremo utilizzando la piattaforma Hostinger, con la quale sto facendo diversi tutorial in collaborazione ormai da diversi mesi. E sappiamo che Hostinger ci accoglie sempre con questa schermata. Quindi come prima cosa creeremo un nuovo sito web. Qua ci chiede come vogliamo procedere. Vogliamo andare con WordPress. E questo ovviamente per chi è pratico di WordPress, sa smanettare, sa lavorare con WordPress. Vogliamo farlo manualmente, scrivendo il codice. Se sapete farlo, ovviamente potete scegliere pure questa opzione. Nel nostro caso ci interessa ovviamente farlo con l'intelligenza artificiale. Vogliamo che il grosso del lavoro venga fatto con le iBuilder che ci offre Hostinger. Quindi cliccheremo su questa opzione, con il costruttore di siti web di Hostinger. E qui è dove facciamo fare il grosso del lavoro e l'intelligenza artificiale. No, ci appare questa schermata che forse vi ricordate perché abbiamo visto anche in altri tutorial che abbiamo fatto relativi ad Hostinger. La cosa importante qua qual è? Ci chiede di scegliere il tipo di sito web che stiamo creando. Questa è la sezione fondamentale perché qua dobbiamo scegliere che vogliamo un portfolio. Ok? Qua possiamo fare varie tipologie di sito web. Ovviamente nel nostro caso, visto che vogliamo un portfolio, dobbiamo fare attenzione e scegliere portfolio. E qui ci sono queste due voci che abbiamo discusso spesso in altri tutorial. Sono le informazioni che l'intelligenza artificiale di Hostinger utilizzerà per andare poi a crearci la struttura iniziale del nostro sito web. Quindi qua dovete fare molta attenzione e soprattutto dovete essere molto dettagliati. Cioè più informazioni gli date, più materiale ha l'intelligenza artificiale per poter elaborare dopo creare il nostro sito web e meglio è. Questa è una cosa che ripeto molto spesso però è importante secondo me dirlo in ogni tutorial perché se scrivete una descrizione di due righe e poi il sito non vi piace è normale che non vi piace perché avete scritto troppo poco. Quindi qua facciamo un esempio. Beh, gli lascio Raffaele Gaito Photos. Mi invento questa cosa, no? Immaginate che sia un fotografo. E qua ho scritto una breve descrizione che copio e incollo giusto per velocità. ho inventato una casistica nella quale io sono un fotografo che si occupa di fotografia ai concerti, agli eventi dal vivo e così via. Quindi lo copio e lo incollo qua. Vedete abbiamo 700 caratteri a disposizione quindi sfruttateli. Quindi mi occupo di fotografia di concerti dove catturo l'essenza e l'energia della musica dal vivo attraverso il mio obiettivo. Nel sito c'è una selezione delle mie foto più intense e dinamiche dai primi piani degli artisti ai panorami mozzafiati del pubblico in festa. Ogni scatto racconta una storia di luci, emozioni e suoni trasportandoti al centro dell'azione. Si potranno sfogliare i miei progetti per esplorare il mondo dei concerti come lo vedo io e sarà la possibilità di contattarmi per collaborare insieme. Ovviamente un sito portfolio è molto semplice in termini di struttura, no? Non c'ha tante pagine, non c'ha tanto materiale. Serve soprattutto per mostrare il proprio lavoro, i propri progetti, i clienti con i quali abbiamo lavorato, eccetera, eccetera. Quindi clicchiamo su Crea un sito web e mentre aspettiamo che l'intelligenza artificiale faccia il suo lavoro vi ricordo che ogni volta che facciamo ovviamente una collaborazione con Hostinger potete utilizzare il link hostinger.com slash gaito e in questo momento un altro c'è in corso la promozione per il Black Friday e vi beccate anche il solito 10% di sconto riservato alla mia community. hostinger.com slash gaito ve lo metto qua in sovraimpressione e ve lo lascio pure qui sotto in descrizione. Allora, l'intelligenza artificiale ha fatto il suo lavoro. Avete visto tra l'altro è stato anche molto veloce nella creazione. Una cosa importante che ripeto spesso è che quando vediamo il sito che ci è stato creato se non ci convince possiamo fare Create Again, no? Il pulsantino che vedete qui in alto a sinistra. Non è qualcosa di scolpito nella pietra, ok? Se non vi convince semplicemente lo rifate, ci riprovate, ci riprovate n volte fino a che non arrivate a quello che vi interessa a voi. Non solo, ma potete fare modifica sito e tra un attimo lo vediamo e andate a modificare tutte quelle cosine. Vi andate a fare tutta la parte di modifiche finali. Prendete sempre questo materiale che vi viene prodotto come un punto di partenza. È chiaro che l'intelligenza artificiale non vi fa il 100% di lavoro, però abbiamo un ottimo scheletro, un'ottima struttura e poi magari ci cambiamo il titolo, ci mettiamo l'immagine aggiornata, ci mettiamo il logino che vogliamo noi, cambiamo quel colore, eccetera, eccetera. Quindi vediamo un pochino cosa ci ha creato. Qua sopra ci sono ovviamente le pagine, con le quali posso andare. Abbiamo la pagina Portfolio, perché è un sito Portfolio, questo che stiamo creando, la pagina Progetti e la pagina Contatti. Quindi molto semplice, esattamente come ce la immaginavamo noi. Qua ci fa vedere progetti fotografici. Vedete, quindi è senza musicale, collaborazioni creative, fotografia concerti. Quindi questo l'ha dedotto, l'ha scritto e l'ha strutturato in base a quello che noi gli abbiamo dato nella descrizione. Ecco perché scrivere una buona descrizione è fondamentale, ve lo dicevo prima. Quindi qua c'è Portfolio, posso esplorare il mio lavoro, galleria fotografica. Ovviamente la prima cosa che io farei, se fossi veramente Raffaele Gaito Photos, come ho scritto prima nel brand, è che mi andrei a cambiare queste foto mettendo le mie. Ovviamente qua ha preso delle foto di repertorio, delle immagini stock. Qua io ci vado a mettere il mio lavoro. Se non sei un fotografo, ma lo vuoi fare una cosa del genere, magari per un grafico, cosa farei? Qua ci metterei tutti i progetti grafici sui quali ho lavorato, i clienti e così via. Quindi molto semplice, qua c'è il box contattami, i contatti social, eccetera, eccetera. Cosa facciamo adesso? Vi faccio vedere come funziona Modifica Sito. Se fate Modifica Sito, ovviamente ho la possibilità di andare a intervenire. E non lo devo fare scrivendo codice, no? Questa è la cosa comoda, ovviamente per tutte le persone che non sono esperte di codice, di programmazione, che non sanno mettere mano su un sito web, questo lo potete fare molto velocemente. Come sempre potete passare anche alla versione mobile, quindi automaticamente quando Hostinger vi crea un sito, il sito è già anche ottimizzato per mobile, e potete andarvi a spulciare per vedere se vi convince, se volete cambiare qualcosa e così via. Torno alla versione web e possiamo fare delle modifiche. Quindi se qua c'è scritto Cattura l'essenza della musica dal vivo e questa cosa non ci piace, io vado qua e faccio Raffaele Gaito, due punti, Cattura l'essenza della musica dal vivo. No, perché magari voglio mettere come prima cosa il mio nome quando si arriva qua. Esplora i miei progetti fotografici e vive l'energia dei concetti attraverso il mio obiettivo. Quindi anche qui posso andare a modificarlo, come ho fatto prima, e ricordatevi una cosa importante qual è, è che l'intelligenza artificiale non ci aiuta solo in fase di creazione, quindi diciamo in quella schermata che abbiamo visto prima, ma anche quando siamo dentro, in fase di modifica. Ogni box testuale sul quale clicco, vedete che compare il pulsantino AI Writer? Significa che io posso cliccare questo pulsante e farmi aiutare dall'intelligenza artificiale a scrivere quel testo. Quindi anche quando sono dentro e devo fare i vari copi, i vari testi delle varie sezioni, i titoli, le descrizioni, eccetera, eccetera, se voglio lo faccio fare all'intelligenza artificiale, mi faccio aiutare dall'intelligenza artificiale. Quindi qua gli dico scrivimi una breve descrizione per un sito di fotografo, eccetera, eccetera, crea testo e se mi piace poi me lo metto qua. Qui sotto come vedete c'è un video, se a me magari questo video non mi convince perché è pesante, troppo lungo, eccetera, eccetera, posso toglierlo, posso mettere una mia immagine e così via. E ovviamente un'altra funzionalità che abbiamo non è solo quella di andare a lavorare con i testi, ma anche quella di poter generare delle immagini. Vedete, queste sono cose che normalmente noi abbiamo visto mille volte su questo canale, che facciamo con strumenti esterni, quindi con GPT, con MidGiorni, con questo, con quell'altro. In questo caso la comodità ovviamente è quella di avere tutto integrato direttamente nella piattaforma, quindi da qua dentro mi genero il test, da qua dentro mi genero le immagini e così via. E poi, diciamo, qua possiamo scrollare tutta la sezione che abbiamo visto prima, quindi se c'è qualcosa che non mi piace, che ne so, mettiamo che io non c'ho la newsletter, quindi vado qua, questo lo cancello, questo me lo cancello, vedete avete completa autonomia. Qua c'è ovviamente contatto, che ho c'è raffaelegatofotos.com, questa cosa la vado a modificare, ci metto la mia mail, se non voglio mettere il telefono tolgo il telefono, se qua ho altri social tolgo X, magari ci metto LinkedIn, no, avete totale autonomia. E quello che possiamo fare è anche andare a lavorare sulle sezioni, cioè, che ne so, mettiamoci che, pigliamo, facciamo una prova, no, io questa e la tolgo, questa sezione qua, vedete questa è una sezione, io posso dire non la voglio, la elimino completamente, oppure se voglio vado su aggiungi sezioni e mi metto un nuovo box. Ecco perché vi dicevo, non è scolpito nella pieta, questa roba possiamo espanderla quanto vogliamo. Ci sono delle sezioni già pronte, oppure mi crea una sezione vuota, o mi faccio aiutare dall'intelligenza artificiale. Le sezioni pronte sono le classiche sezioni che uno troverebbe su un sito di questo tipo, che ne so, immaginate che, vabbè, la galleria ovviamente già l'abbiamo messa, ma immaginate per esempio che volete mettere pure dei video, perché magari non fate solo foto ai concerti, ma fate foto e video, mi crea una sezione con i video, dove magari dentro ci metto il link del video YouTube, del video Vimeo, eccetera, eccetera. Oppure, che ne so, ci metto la mappa, no? Aggiungo un box mappa, impiamone uno per fare proprio un esempio, che ne so, ci metto questo qua, ci metto il box mappa e magari dico, vieni a trovarmi, e che ne so, qua ci metto l'indirizzo che magari mi trovo a Londra, e qua ci metto anche Google Maps, e magari anche un'immagine del mio ufficio, perché magari ho un ufficio nel quale faccio degli scatti, nel quale posso accogliere i clienti, organizzo dei workshop, e così via. Quindi avete totale, totale autonomia, e visto che siamo in tema di intelligenza artificiale, sulla sinistra qua ho anche raccolti tutti gli strumenti di AI, quindi diciamo, è un menu veloce nel quale posso accedere a generare le immagini, generare le pagine, le sezioni, scrivere il testo, eccetera, eccetera. Posso fare tutto qua dentro molto velocemente, per me quello può essere, no? Un punto di riferimento, per dire ogni volta che mi serve, è una sorta di cassetta di attrezzi, no? La cassetta degli attrezzi, degli strumenti AI. Vi ricordo il link per accedere alla promo, come sempre, ostinger.com slash gaito, nel momento in cui vedrete questo video, sarà anche in corso la promo Black Friday, oltre a beccarvi il 10% di sconto, come al solito. Vi faccio vedere anche dove mettere il codice, il coupon, diciamo, facciamolo su un'offerta qualsiasi, quindi clicco sull'offerta, vado su Ottieni Offerta, come se volessi comprarla, mi scelgo il piano, quando si carica la pagina di pagamento, vedete adesso si sta caricando la classica pagina di, diciamo, di checkout del carrello, in questa sezione qua a destra, dove dice, hai un codice sconto, voi scrivete gaito, applicate, e oltre alla promo in corso, ovviamente, in questo caso è il Black Friday, vi pigliate pure lo sconto mio, vedete? Qua c'è il coupon applicato, quindi, vi ricordo, ostinger.com slash gaito, per la promo, e se ovviamente, dopo aver visto questo tutorial, vi chiedete, Raph, ma un sito del genere per me è troppo semplice, per le necessità che ho io, per le caratteristiche del mio business, del mio progetto, posso fare un sito più completo, però utilizzando sempre una tecnologia del genere, facendomi supportare dall'intelligenza artificiale? La risposta è, certo che sì, ci ho fatto già un tutorial, bello completo, bello dettagliato, ve lo metto a destra schermo, cliccate, vedete come potete fare un sito web, un po' più completo, un po' più strutturato, utilizzando un'intelligenza artificiale, vai, cliccate il video.